musica 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 o il cazzo duro musica taci duro taci duro musica musica Zingali Bene ragazzi bentornati qui sul mio canale Come sempre è Drake che mi parla Oggi ragazzi siamo nella prima Fuck you time Anzi fuck Drake Dove risponderò tutte le vostre domande Che mi lasciate sotto nei commenti E raga oggi sono più gassato del solito Che cazzo di animale era Quindi ragazzi prima di iniziare vi invito a passare su facebook E a lasciare like così possiamo stare sempre aggiornati tra di noi E ora possiamo iniziare con le domande Alice F Ci chiede Fuck Drake Enrico Pasquale praticò o Rosario Mugniz Oh mia bella madonina Bella domanda Bella domanda Tra i due Saluto andone Proprio aga Omaia la braccia ci chiede Fuck Drake Come mai il nome xDrake La peggior figura di merda che hai fatto Mi saluti Mi chiamo Ome Bella Ome Allora Cioè raga in questo disco sta la risposta Encharted Il protagonista di questo gioco si chiama Nathan Drake E quindi siccome mi piaceva la faccina xD e cercavo il nome che iniziava con la D Ho detto perché non chiamarci xDrake E quindi Mi chiamo xDrake La peggior figura di merda che ho fatto invece è questa Questa è una figura di merda Raga siamo proprio squalid e questo non va bene Silvia Baldo ci chiede Fuck Drake Come mai ho iniziato a fare video su YouTube? Per i big money raga Raga sono un money grabber Niente da fare Vabbè a parte gli scherzi Ho iniziato a fare video su YouTube per passione Credo si vede nel Nei miei video Per l'editing I contenuti E tutte queste cose qui Perché ormai tutti quanti vogliamo diventare YouTuber Per essere famosi E essere riconosciuti E si è bello Ma per fare tutto ciò Devi avere passione Se non hai passione Non vai da nessuno a parte Questo mettetevelo tutti quanti in testa Animo Z Ci chiede Fuck Drake Appena hai fatto il tuo primo video Come ti sei sentito? Parleranno le immagini Ma bella a tutti ragazzi Venuti in questo nostro primo video Qui da HardX46 Bella X Drake E Gabo46 Bella Sono veramente euforico Rossella Provenza non ci chiede Fuck Drake Ti piacerebbe arrivare a 100.000 iscritti? No ma mi piace restare a 2.000 Perché dovrei andare avanti? Ma ovvio regà Poi ragazzi intanti mi chiedono Vieni a Verona Vieni a Rimini Vieni a Firenze Regà regà Ho 2.000 iscritti e sto in Sicilia Ma se cresciamo tutti insieme Non ora ovviamente Ma prima o poi Verrò da tutti Aurora Martinoni ci chiede Fuck Drake Mi vuoi bene? No Che cazzo lì Drake con cosa registri i tuoi video? E con quale programma li editi? Drake ti stimolatissimo Continuo così It's the dream Grazie XLL Ragazzi per ora registro i miei video con una reflex Sarebbe Nikon di 5.100 Ma più in là prenderò una videocamera Così i video saranno più E poi ragazzi edito con Sony Vegas Che è un programma che ha pagamento Ma ovviamente tutti crackano Perché siamo tutti Agab Quindi Italia Popo Fiera Tu Clive Grazie per la musica di sottofondo Regia Viola03 Vlogger Vlogger Sei fidanzato? Mi saluti? Grazie dei tuoi video? Sei bellissimo Ciao e grazie Viola03 Vlogger E finalmente ragazzi svegliamo il mistero Così nessuno più mi rompe le palle in chat VASOTROIE No scherzavo rega Si ragazzi sono fidanzato E da poco ho fatto 6 mesi Quindi mezzo anno E ora voglio un applauso rega Bravo Travis Grazie Bravo Sei un cozzone Tu madre Rega ma noi più semplici no eh Ci chiede Fuck Drake Hai mai messo incinta una ragazza? Salutami bella Ciao 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 amore Ciao 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 No ma io non ho mai messo incinta una ragazza Minimo 2 Sono veramente euforico Però che Lucero ci chiede Fuck Drake Hai mai pensato di vestirti da donna O provare ad esserlo? E raga si purtroppo soffrocio io quindi Mi sono stata donna E' stato le zinghi li sono stati Scriventi te ci chiede Fuck Drake quanto sei alto? Lo vuoi proprio sapere? Cioè tu vuoi sapere Quanto io sono alto? 1.75 Mamma mia un balo sei Drake Maria Precci ci chiede Fuck Drake Pensi che la relazione con la tua ragazza durerà molto? Mamma mi spieghi perché commenti nei miei video Facendo Mamma che cazzo commenti nei video? No no ma cazzo commenti Dingari Dingari Ciao 하겠습니다 Si Ciao 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 Grazie a tutti.